Buonasera, stasera abbiamo con noi il professor Francesco Germinario, studioso della cultura di destra, ha scritto diverse pubblicazioni sul tema per chi ci terrà una conferenza dal titolo la cultura di destra negli anni settanta. Una cosa molto sentita, l'avevo chiamato tempo fa, ha accettato volentieri di partecipare all'incontro e ora farò una sorta, leggerò i titoli che il professor Germinario nel corso di questi anni ha dedicato a te. Un attimo solo, allora, l'ultimo in ordine di tempo è Gente Malfida, la critica degli intellettuali nella cultura di destra, 1789-1925. Poi, leggo in ordine, ha scritto tradizione mito storia, la cultura politica della destra radicale e i suoi teorici, poi il mito della cospirazione ebraica nel laboratorio di Urban Goyer, falsario antisemita e le sue teorie. Poi ancora, argomenti per lo sterminio, l'antisemitismo e i suoi stereotipi nella cultura europea, poi ancora vado, l'altra memoria, negazionismo a sinistra, paradigmi dell'uso dell'abuso dell'ideologia. Ancora, un mondo senza storia, la falsa utopia della società della post-storia, poi l'estremo sacrificio alla violenza, il mito politico della morte nella destra rivoluzionaria del novecento. Ancora, serine, letteratura politica e antisemitismo. Per me che sono stato anche lettori serine, verso. Poi, dalla razza biologica alla razza culturale e l'antisemitismo contemporaneo, ancora fascismo 1919, mito politico e nazionalizzazione delle masse, fascismo e antisemitismo, progetto razziale, ideologia totalitaria, poi antisemitismo una ideologia del novecento, la destra degli dei Alain de Benoît e la cultura politica della Nouvelle Droit e poi Casa Pound, la destra proletaria e la comunità di Lod. Ancora, la coscienza ambientata, il presente e la mercificazione dell'io, l'antisemitismo all'affaire d'Refiou e la razza del sangue, razza dello spirito, gli unius evol all'antisemitismo e il nazional socialismo. Io non ne leggo più perché ce ne sono veramente eh a molti altri ancora e do la parola al professor Germinario per questa sua conferenza, ricordo il titolo, la cultura di destra in Italia ma anche in Europa negli anni settantane. Prego professore. Dunque, io farei una premessa. È in voga soprattutto nella cultura di sinistra, nella cultura che si richiama all'antifascismo, è in voga la convinzione che la destra sia un'eccezione, che la destra sia, come dire, uno scherzo della storia, che la destra in sostanza non dovrebbe esistere perché va contro la storia, contro le tendenze, contro il corso della storia. È una convinzione implicita o esplicita che bisognerebbe sfatare e che lo storico non deve assolutamente seguire. Per limitarmi agli aspetti culturali della cultura della destra, almeno nel caso italiano, a muovere dal 45, dalla fine della guerra, c'è stata una cultura di destra, sotterranea, carsica, ma c'è stata, c'è stata con due caratteristiche. Intanto autoreferenziale, una destra cioè che voleva valorizzare l'atteggiamento di chi, di quell'area di società italiana sostanzialmente minoritaria, che non si riconosceva con l'antifascismo, che non si riconosceva con gli ideali repubblicani. Ed è stata una cultura di destra anche, come dire, dotata di un atteggiamento che io definirei rancoroso. Fatti salvi questi due aspetti, però una cultura di destra in Italia c'è stata. Ora, quando intendo cultura di destra, non intendo la cultura della destra liberale, tanto per intenderci Montanelli. Intendo una cultura, quella cultura che non si è riconosciuta con la rottura del 1945. Per passare agli anni settanta, sono anni in chiaroscuro, con aspetti, come dire, positivi per la cultura di destra, ma anche con aspetti negativi. Mi spiego. Intanto, nella prima metà degli anni settanta, scompaiono due figure importanti della cultura di destra italiana. Giulio Sevola muore nel 1974. L'anno prima era morto, all'età di 33 anni, Adriano Romualdi, figlio di Pino Romualdi, una figura apicale nel panorama del movimento sociale italiano e punto di riferimento intellettuale del radicalismo di destra. Romualdi muore in un incidente d'auto che nel 73, nell'agosto del 73, che Guido Giannettini, personaggio implicato coinvolto poi con vari processi, eccetera, nella strategia della tensione, definirà molto, molto strano. Queste sono due perdite importanti per la cultura, per la cultura di destra, perché soprattutto Romualdi aveva cercato di delineare un panorama della cultura di destra sulla scia di Giulio Sevola, preciso che i due, Romualdi ed Evola, si conoscevano molto bene, si frequentavano, per la verità era Romualdi che frequentava Julius Evola, perché Evola era ridotto su una carrozzella, su una sedia a rotelle per via di un incidente capitato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Se vogliamo delineare il panorama delle case editrici della cultura della destra negli anni 70, ci sono case editrici importanti, come dire, che costeggiano la destra, Longanesi e Rusconi. Rusconi soprattutto durante il periodo in cui entra a far parte del gruppo degli paesi redazionale, un intellettuale di destra come Fausto Gianfranceschi. Però se dovessi dire qual è l'editore di estrema destra più importante negli anni 70, dovrei fare il nome di Giovanni Volpe. Giovanni Volpe era figlio del grande storico monarchico conservatore, poi aveva naturalmente aderito al fascismo, Gioacchino Volpe. Alla scuola degli studi storici di Gioacchino Volpe si era formata gran parte degli storici che poi avrebbero operato nell'Italia post 1945. Giovanni Volpe è un personaggio, è stato un personaggio molto sottovalutato negli studi della destra. Io lo definirei però Leinaudi della destra. Pubblicava molto anche se non aveva distribuzione e vi pubblicavano in tanti. Adriano Romualdi scriverà il primo saggio su Evola, farà le prime prove di scrittore veneziani, ma io vorrei ricordare oltre a questi nomi conosciuti, soprattutto quello di veneziani, il nome di uno di un politologo americano di origine italiana, parte della famiglia era di origine italiana, Anthony James Gregor, che è abbastanza conosciuto tra gli studiosi del fascismo, che pubblicherà diversi volumi, almeno due volumi a mia conoscenza per le edizioni di Giovanni Volpe. Un saggio su Sergio Panunzio e un saggio su Roberto Michels. Accanto a questa attività editoriale, Giovanni Volpe promuoverà la rivista, a mio avviso, culturalmente più interessante che ci sia stata nella cultura di destra dal 45 ad oggi. Il periodico Intervento. Sul periodico Intervento, una rivista semisconosciuta, se non agli studiosi della destra, il periodico Intervento dovrebbe corrispondere a quello che era all'epoca, tanto per intenderci, critica marxista o studi storici, le riviste promosse dal Partito Comunista. Una rivista molto dignitosa per i suoi contributi, per il taglio di analisi che veniva proposto. Una rivista, dicevo, culturalmente molto prestigiosa, soprattutto quando a dirigerla per alcuni fascicoli, per alcuni numeri, sarà chiamato uno storico del calibro di Francesco Perfetti, in rapporti molto stretti con Renzo De Felice, col filosofo di provenienza cattolica Augusto del Noce. Dicevo di Evola. Evola è rimasto un, era un solitario in Italia, nella cultura italiana. Su di lui era, è pesata, pesa ancora oggi, la condanna dovuta al fatto, condanna di natura culturale naturalmente, dovuta al fatto che fu una delle voci dell'antisemitismo fascista. Ma non possiamo ridurre Evola, soprattutto l'Evola post 1945, nel 1945 al suo impegno antisemita. Evola, dicevo, rimane un solitario, era stato quasi un solitario all'epoca, durante gli anni del fascismo, soprattutto a partire dalla fine degli anni venti, e tale rimarrà ancor più isolato nella cultura italiana del secondo dopoguerra. Si forma, perché isolato? Perché la sua formazione culturale, le sue posizioni politico-culturali, più che, come dire, più che riferibili alla cultura italiana dell'epoca, Croce e soprattutto Giovanni Gentile, Evola si era formato soprattutto sugli autori della conservative rivoluzione tedesca. Non a caso sarà il traduttore del tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler, uscito da Longanesi nel secondo dopoguerra. Quindi non possiamo ridurlo all'antisemitismo, un personaggio come Evola. L'antisemitismo di Evola c'è stato, naturalmente, ed è stato anche molto pesante. Però è stato un autore così variegato, con esperienze culturali anche diverse. Ricordo che nasce come seguace un po' del futurismo nel periodo precedente, nel periodo precedente, durante la guerra, nasce addirittura come futurista, come dadaista, ecco, per intenderci. Non possiamo, dicevo, ridurlo all'antisemitismo, ma c'è bisogno di un confronto serio con lui anche per comprendere alcune posizioni della cultura di destra del secondo dopoguerra. Evola aveva pubblicato molto. Aveva pubblicato molto sia durante il fascismo, con una leggera prevalenza di saggi, sì, sull'antisemitismo, ma anche di saggi pubblicati su giornali, riviste, eccetera, ma continuerà a pubblicare molto anche dopo il 1945. Infatti, se si ha la pazienza di scorrere i cataloghi delle case editrici di destra, soprattutto di destra radicale, si noterà che Evola viene continuamente ristampato. Sarà ristampato molto subito dopo la morte, negli anni dopo il 74, ma ancora oggi, ancora negli ultimi anni, ci sono state ristampe dei saggi evoliani. Evola, dicevo, pubblica molto, diventa il punto di riferimento soprattutto, collaborerà al secolo d'Italia per un certo periodo, ma diventa soprattutto il punto di riferimento della destra radicale italiana, non solo italiana, perché i suoi saggi vengono tradotti anche all'estero, soprattutto in Francia. Diventa appunto di riferimento della destra radicale italiana al punto che Franco Freda confesserà che era stato colpito dagli scritti evoliani, soprattutto da cavalcare la tigre e da orientamenti. Sarà ristampato, e tant'è, era già ristampato durante, negli anni in cui era in vita, e lui se n'era anche lamentato dicendo che non gli riconoscevano i diritti d'autore e che tutti gli ristampavano i suoi saggi senza chiederne l'autorizzazione e consultarlo. Se io dovessi dire qual è il saggio, uno dei saggi che più hanno influito nella cultura della destra italiana, è un saggio di poco più di una trentina di pagine pubblicato in prima edizione nel 1950, Orientamenti, pubblicato su una rivista Imperium a metà fra radicalismo e appartenenza, radicalismo di destra e appartenenza a Missina, Orientamenti sarà ripubblicato e ristampato moltissime, moltissime volte. È un libro chiave. Perché è un libro chiave? Perché la tesi fondamentale di Evola è che non c'è più nulla da fare. Con la Seconda Guerra Mondiale hanno vinto le forze della decadenza, quindi le forze appartenenti allo schieramento antinazista, antinazifascista. hanno vinto le forze della decadenza. L'unica cosa da fare, l'unica prospettiva è quella di difendersi dalla decadenza, difendersi anche come stile come stile di vita. Evola pubblicizza la figura del soldato politico, fa l'esempio del milite romano, del legionario romano, che rimane impassibile di guardia perché quelle erano state le disposizioni che le erano state affilate, mentre la lava del Vesuvio travolgeva e seppelliva Pompei. Quindi è l'immagine del soldato politico come colui che sfida l'inevitabile senza battere ciglio. Ricordo che quando Pierluigi Concutelli scomparso recentemente, è morto recentemente, viene arrestato per gli omicidi a cui aveva partecipato, si dichiarerà un soldato politico. Ora, la figura del soldato politico non è tanto un'invenzione evogliana, è una come dire suggestione che Evola pubblicizza ma viene fuori in sostanza il riferimento implicito alle SS. Fra le opere evogliane poi ce ne saranno altre che avranno molto molta diffusione nell'aria. Cavalcare la Tigre, Evola pubblicherà il fascismo visto dalla destra per le edizioni di Giovanni Volpe negli anni Sessanta. Anche questo sarà un volume ristampato sarà un volume ristampato più volte. Cosa dire in proposito? se facciamo riferimento alla cultura di destra che segue Evola dovremmo suggerire a questa cultura di destra l'ipotesi che con Evola non si fa politica cioè si fa una politica minoritaria al massimo di difesa delle proprie posizioni non è Evola non è una figura diremmo di propositiva e visto che siamo governati da uno schieramento di centro-destra con Evola non si può stare al governo assolutamente perché rifiuta qualsiasi prospettiva in tal senso per Evola si tratta di difendersi dalla decadenza piuttosto che di piuttosto che di governarla negli anni settanta questa cultura è molto minoritaria è poco seguita anche perché gli anni settanta sono gli anni in cui si diffonde l'antifascismo militante è inutile che io stia qui stia qui a dire che cosa si intendesse per antifascismo militante cioè rendere la vita impossibile alle organizzazioni di destra ma soprattutto rendere la vita impossibile ai militanti di di estrema destra era una cultura che giudicava tutto ciò che si muoveva a destra come anticultura e un gravissimo questo era un gravissimo errore di natura storiografica direi che l'unico che aveva capito che il fascismo non era stato anticultura e quindi c'era chi poteva richiamarsi al fascismo era stato il grande storico di Mussolini il grande biografo di Mussolini Renzo Renzo De Felice ma per il resto era una cultura giudicata anticultura ma l'anticultura non esiste perché pure i nazisti avevano sviluppato una loro politica avevano sviluppato una loro politica culturale a destra non è un caso che si comincerà alla fine degli anni settanta poi siccome fino agli anni settanta era una cultura della nostalgia ho detto prima che era una cultura abbastanza rancorosa alla fine degli anni settanta si comincia a muovere qualcosa cominciano intanto c'è il fenomeno secondo me molto sopravvalutato della nuova destra è un fenomeno sopravvalutato perché in seguito gli esponenti della nuova destra cercheranno di come dire utilizzare la loro esperienza lo dico molto brutalmente molto cinicamente utilizzare quell'esperienza per far carriera in sostanza chi nel giornalismo chi nell'accademia eccetera però è una cultura interessante perché era molto interessante il loro punto di riferimento parigino il filosofo nonché storico delle idee Alain de Benoit questa nuova cultura che proviene da Parigi ma non si limita a come dire fare i conti con la situazione culturale francese questa cultura politica non era esplicitamente nostalgica posso interrompere un minuto che bevo ok andiamo Alain de Benoit tuttora filosofo filosofo attivo storico delle idee molto attivo mi si diceva leggevo che parteciperà la prossima al prossimo salone del libro a Torino come conferenziere Alain de Benoit aveva rotto con la nostalgia sia pure sia pure recuperando autori che avevano fatto parte della cultura di destra negli anni 20-30 ma anche prima e ripeto non solo francesi Alain de Benoit svolge un ruolo importante nello sprovincializzare quei giovani che fondano che si riconoscono nell'immagine della nuova destra in Italia perché mi riferisco a riviste come La Voce della Fogna di Orama letterario eccetera qual è il problema il problema è che questi giovani rompono con la nostalgia sulla scia di De Benoit rimanendo però fermi ad alcuni atteggiamenti e alla frequentazione di autori cari alla destra alla cultura della destra prima della seconda della seconda della seconda guerra mondiale a questi giorni giovani è da riconoscere un merito però quello di aver introdotto in Italia di aver tradotto per la prima volta un saggio né destra né sinistra l'ideologia fascista in Francia un saggio un saggio del grande storico israeliano Zev Sterner morto alcuni anni fa cioè questi giovani come dire rispondono alla cultura antifascista che aveva che aveva giudicato il fascismo anticultura sulla scia di Norberto Bobbio e di altri autori di provenienza quasi tutti di provenienza azionista rispondono presentando una lista di autori degli anni 20-30 soprattutto che si erano riconosciuti nel fascismo basti pensare non tanto a Selin autore giudicato infrequentabile per il suo antisemitismo ma la mia opinione è che il viaggio al termine della notte di Selin sia uno dei più grandi romanzi del novecento rispondono affermando presentando una lista di autori che nel fascismo come terza via oltre il capitalismo e oltre il socialismo materialistico cioè il socialismo sovietico in sostanza avevano tentato di elaborare appunto una terza via quella che Pierre Drill La Rochelle aveva chiamato nel 1944 nel 1934 pardon socialismo fascista quindi c'è questo merito da riconoscere alla nuova destra quella di aver costretto chi stava a sinistra a riconoscere che c'era stata una cultura che c'era stata una cultura di destra con cui bisognava fare i conti dirò di più se io se dovessimo delineare una lista di autori di destra o di posizioni democratiche del novecento direi che il settore della destra antidemocratica è molto è molto è molto nutrito quindi è un atteggiamento quello di giudicare la destra come anticultura è un atteggiamento da respingere fermo restando che viene da sorridere quando si dice che Dante è stato il fondatore della cultura di destra replicherei con una domanda dove mettiamo a destra a sinistra o al centro i vari Leopardi Petrarca Boccaccio Manzoni lo sappiamo era cattolico ma gli altri sono difficilmente sono difficilmente collocabili nello schema nello schema destra a sinistra vorrei sottolineare un aspetto la cultura di destra che c'è stata nel novecento compresa la cultura italiana di destra degli anni settanta non si considerava di destra perché pensava che le categorie destra a sinistra fossero superate e chi aveva contribuito a superarle era stata appunto l'esperienza fascista perché in effetti nel fascismo si ritrovano aspetti riconducibili alla tradizione di destra ma riconducibili anche alla tradizione alla tradizione di sinistra basti pensare che il fascismo si considerava un movimento rivoluzionario e per definizione il concetto di rivoluzione è stato sempre riconosciuto come appannaggio della appannaggio della sinistra infatti la cultura di destra molte volte si è considerata né di destra né di sinistra oltre la destra oltre la sinistra e di destra e di sinistra ora lascio all'ascoltatore tutte queste tutte queste definizioni un invito finale la cultura la cultura di destra va studiata in maniera empatica qui mi aiuta la grande lezione metodologica la lezione metodologica del grande storico delle idee George Lachman Mosse cioè empatica nel cercare di capire come il tale autore il tale scrittore il tale poeta il tale giornalista eccetera hanno cercato di interpretare il loro tempo hanno cercato di offrire una soluzione al loro tempo alla crisi del loro tempo perché uno dei dati su cui bisogna riflettere è che la cultura di destra ha sempre considerato la società borghese liberale la società della decadenza su questo c'è Evola ma ci può essere anche Spengler eccetera e che il marxismo in quanto materialismo era stata una risposta falsa una falsa risposta ai problemi del capitalismo per questo della società borghese liberale per questo bisognerebbe andare secondo gli esponenti più rappresentativi della cultura di destra bisognerebbe andare oltre la destra oltre oltre la sinistra va giudicata va analizzata in maniera empatica io molte volte se mi è permesso una riflessione di natura personale sulla mia vicenda di storico della cultura di destra molte volte o comunque spesso sono stato sono stato imputato quasi sempre implicitamente di avere un atteggiamento comprensivo nei confronti di questa cultura ma se lo storico non cerca di comprendere io mi chiedo se lo storico non cerca di comprendere che storico è dovrebbe cambiare mestiere in sostanza piuttosto che fare lo storico lo storico non esprime giudizi morali cerca di capire quello che è successo lo storico delle idee deve fare attenzione ad una cosa la storia delle idee diceva il grande storico dell'antisemitismo Leon Poliakoff la storia delle idee è molto delicata bisogna trattarla con con rispetto anche se non si condividono le idee che vengono anche se non si condividono le idee che vengono analizzate però bisogna cercare di capire perché e concludo veramente non si può pensare che solo che solo la sinistra sia stata una cultura che ha cercato di capire il mondo no anche la cultura di destra ha cercato di capire di offrire una soluzione sia pure storicamente è stata disastrosa la soluzione che sono state disastrose le soluzioni che ha offerto però bisogna cercare di capire questo è il compito dello storico grazie grazie a lei un'ultima domanda con gli epigoni di Evola cioè Francofredo ci sono stati gli epigoni di Evola dopo Evola il dopo Evola in Italia dopo Evola in Italia non c'è nessuno se non chi si arrampica sulle spalle dei giganti per cercare di condurre la propria battaglia per qualche aspetto per qualche aspetto Freda che si è sempre considerato un allievo di un allievo di Evola però Freda ha rappresentato come dire la parte militante dell'evolismo allo Stato non ci vedo epigoni o anzi non ci vedo eredi ci vedo qualche epigono di Evola va bene io la ringrazio e questa puntata verrà trasmessa sul canale di storia locale su YouTube grazie professore grazie a lei salve buonasera grazie a lei